Nessun trasferimento per gli undici anziani della casa di riposo San Pio di Padula, risultati non contagiati. Nella giornata di ieri il sindaco Paolo Imparato, di concerto con l'asile di Salerno, aveva proposto il loro trasferimento precauzionale presso il Campolungospital di Eboli. Una decisione assunta, visto quanto accaduto in altre case di riposo anche del territorio, è sostenuta dal timore che potessero emergere anche a distanza di tempo nuovi casi positivi. I tamponi al momento sono stati fatti a tutti ospiti operatori della San Pio, confermando sette positivi, cioè quattro anziani, due operatrici più la proprietaria, a cui si aggiunge, legato a questo filone, il marito della donna. Il numero dunque non dovrebbe variare a questo punto, visto che tutti sono stati sottoposti ad esame, ma il timore che il contagio possa ancora svilupparsi per coloro che, pur risultati negativi, hanno comunque trascorso del tempo nella struttura di Padula, aveva spinto il sindaco a prospettare il loro trasferimento, anche per consentire la sanificazione dell'ospizio. Ma ad opporsi è stata la titolare della casa di assistenza, che ha garantito sulla sanificazione già avvenuta della struttura, sulle buone condizioni degli anziani e ha espresso anche la volontà dei familiari degli ospiti. Per cui, quando ormai tutto sembrava fatto, il trasferimento non è avvenuto. I anziani non contagiati continueranno a rimanere a Padula. Volevo trasferirli in un ospedale in via precauzionale, ha detto imparato, ma visto che stanno bene e che anche i familiari preferiscono che rimangano a Padula, per me non ci sono problemi, basta che la decisione sia condivisa. Intanto, nel Vallo di Diano, nelle ultime ore, non si registrano nuovi casi, fatta eccezione per un altro positivo a Sala Consilina. Si tratta di una donna parente di un altro contagiato e già in quarantena da due settimane. Da oggi l'esercito ha lasciato il Vallo di Diano per proseguire la sua opera di presidio nell'agrono Cerino Sarnese, secondo quanto disposto ieri dal prefetto di Salerno.